Secondino! Terzino! Quartino! Portiere! Ma chi è, che strilla? Che c'è? Sono io il professore! Esatto, me lo dovevo immaginare! E che poteva essere? E' in possesso delle chiavi? Sì, signore. Apera! E' aperto, non c'è bisogno. Cosa vuoi? Non ne posso più. Sono stufo. Ne ho fino al collo. Oh, oh, oh! Che arrivi? Dove vai? Come giù le mani? Ovunque. Io qui dentro non ci resisto più. Ah, no? Questa è una gentaglia. Non consona alla mia personalità. Capito? Ma chi ci credi di essere? Che mi credo di essere? Io sono musicista, sa? Io sono un divo abituato a vivere nei grandi alberghi internazionali. Hai capito? Ha capito? Sì, sì, sì. E non mi faccio l'ognorri. Prende le scarpe. Mi prende le scarpe, non faccio l'ognorri. Lei avvezzi, io la conosco. Senti, stai calmo con le parole. Quali scarpe vuoi? Queste? Quelle? Sì. Allora. E di chi sono? Sono mie. Due? Sì. E chi ce l'ha messa lì? E riserva per farmi lucidare. E come vede, lei non se nemmeno è degnata di uno sguardo. Ma lo ha capito? Ha capito? Che fa? Io? Stai fermo. Come sei? Qui dentro il servizio non funziona. E io pago, si ricordi che io pago? Ma che paghi? Io pago. Ma che paghi? E giù le mani. E giù le scarpe. Io le mani le metto dove voglio. E io le scarpe le metto dove voglio. No, signore. Io con le scarpe ci faccio quelle che voglio. Fenti, non mi fai arrabbiare. Perché cosa? Guarda, tu non mi conosci, io sono un tipo brutto. Lei commette un ottaggio, sa? Ah, nessuno ottaggio. Ma io con chi parla, sa? Io ti metto in cella di segregazione. Hai capito? In cella? Sì. Con quale autorità? Professor, stai attento. Perché? Ti metto ai ferri. Ai ferri? Sì. Ma presi per una bistecca? Bistecca? Ma non fai più. Ma mi faccia il piacere. Tenga le scarpe a me. Faccia il suo dovere. Le scarpe sono stufo. Se non te le tieni, io te le faccio mangiare. Hai capito? Ah sì? Fai rete! Testimoni! Avete visto?